Lo scopo delle emozioni. In questo video voglio spiegarti qual è lo scopo delle emozioni. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai farmi delle domande in apposite live alle quali darò delle risposte. Ci sono quattro livelli di abbonamento, l'abbonamento base con le live, l'abbonamento live per le live, l'abbonamento base con lezioni mirate, l'abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminar del live, l'abbonamento master consulting, quindi più una consulenza telefonica. E adesso veniamo al tema, al tema delle emozioni. Qual è lo scopo delle emozioni? Tutti noi proviamo emozioni e qualcuno di noi sa gestirle, altri non sanno gestirle, quindi la vera abilità è quella di imparare a gestire le emozioni. Ma le emozioni fanno parte proprio della natura dell'essere umano, nessun essere umano può evitare di provare le emozioni. Emozioni significa e dà energia in movimento, e moveo. Significa in due, energia in movimento oppure e moveo, e nel senso di portare fuori, muovere verso l'esterno. Comunque in generale le emozioni sono energia che si muove, quindi in movimento. Possiamo pensare alle emozioni come un mare agitato, mentre la parte calma del mare, diciamo, rappresenta, se vogliamo, la sfera transitore, l'emozione e il movimento. Il primo, diciamo, a interessarsi di emozioni furono gli etologi, anche Darwin. Fece uno studio sui primati e notò che anche i primati avevano emozioni. Ma dobbiamo renderci conto che le emozioni hanno una valenza, perché è energia. L'essere umano, per agire, per muoversi, ha bisogno di energia. E le emozioni sono quello, ciò che danno energia, danno, potremmo dire, la motive azione, danno un motivo all'azione. Non è detto che questo motivo, però, sia un motivo logico-razionale, ovviamente. Quindi, talvolta le emozioni ci fanno muovere, avvicinare, allontanare, innescano la cosiddetta risposta di lotto di fuga, fondamentalmente. Ovviamente vi sono diversi tipi di emozioni, e le emozioni hanno anche un risvolto sulla sfera comportamentale, ma soprattutto sul linguaggio non verbale. Paul Ekman, diciamo, studiò le espressioni del volto per associarle alle emozioni. Lui individuò, diciamo, sei emozioni principali, la gioia, la rabbia, la paura, il disgusto, la sorpresa e la tristezza. E quindi, poi, vi possono anche essere altre emozioni, che lo stesso Ekman studiò, come l'imbarazzo, il disprezzo, l'entusiasmo, l'orgoglio, il timore. Insomma, le emozioni, la sorpresa, la vergogna. Ve ne sono tantissime, poi, alla fine, di emozioni. Ma le principali, le emozioni principali sono quelle dovute alla rabbia e quelle dovute all'amore, fondamentalmente. Eros e Zanatos sono le due fonti primarie di emozioni. Poi, da lì derivano tutte le altre. Le due energie fondamentali dell'essere umano sono quelle. Ecco, quindi, che dobbiamo imparare, diciamo, a tenere presente queste situazioni. Se noi non riusciamo a vivere bene le emozioni, e non riusciamo soprattutto a gestire le emozioni, avremo una vita molto più complicata, molto più difficile. Le emozioni ci permettono di capire e darci la forza a raggiungere i nostri obiettivi. Quindi, dobbiamo avere un obiettivo, l'obiettivo dovrebbe definirlo la sfera logico-razionale, e poi proiettare, diciamo, le emozioni per raggiungere quell'obiettivo. Ovviamente, il perseguire l'obiettivo stesso ci deve dare energia, deve essere una motivazione. E noi, in realtà, siamo felici se utilizziamo questa energia delle emozioni. Quando le emozioni restano bloccate, invece, entriamo in una situazione di sofferenza. Ma anche quando le emozioni agiscono da sole. Quindi, il vero segreto è quello di percepire che abbiamo delle emozioni e dirottarle su un obiettivo, quindi è il fare che ci porta a stare bene. Non è solamente il fare, solamente l'agire che ci porta a stare bene, che ci porta ad essere felici. Quindi, tenere bloccate le emozioni è sbagliato, lasciare che le emozioni agiscano per i fatti loro è sbagliato pure. Quindi, è importante che noi impariamo a gestire le emozioni. Imparare a gestire le emozioni significa avere intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva è proprio la capacità di studiare emozioni. E adesso vedremo poi nei prossimi video come gestire questa intelligenza emotiva, perché questa è la parte fondamentale. Però, tieni presente che senza le emozioni non puoi vivere. Quindi, quando hai delle emozioni, devi imparare a riconoscerle e a proiettarle, a fare qualcosa. Perché, se no, o imploderanno dentro di te, generandoti un sintomo, oppure ti terranno in una situazione molto, molto negativa. Quindi, agisci e vedrai che le cose andranno per il meglio. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra quattro livelli di abbonamento. Abbonamento base, abbonamenti live per partecipare alle live, abbonamento base, con lezioni mirate, abbonamento top, con lezioni mirate e video registrazioni e seminario del vivo e abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti!